Ancora uno stop nella discussione sull'impianto di pirolisi di Eretorbido, la regione ha rinviato la decisione adatta da destinarsi anche a seguito dell'intervento del Parlamento Europeo. La pavia continua alla bufera all'interno del PD, Brendolise smentisce la mail di dura condanna dell'amministrazione e parla di un tentativo di screditarlo all'interno dello stesso partito. E' stato sfiduciato il presidente di ASM e Isa Vigevano Paolo Iozzi a presentare la lettera con la richiesta di dimissioni di due consiglieri del CDA, Giulio Nori e Claudia Cova. Il lancio positivo per ASM Voghera nel 2015 ammonterebbe a circa un milione e mezzo di euro l'utile dell'azienda e ora l'ex sindaco Barbieri risponde alle accuse. Il volento sconto tra un'auto e un camion sulla statale 211 tra Lomello e San Giorgio ad avere la peggio, la pensionata, la guida dell'auto, che non sarebbe però in pericolo di vita. Con i giocattoli i protagonisti della festa del Rousseau a Belgioioso, una bella giornata tra musica e balli per celebrare le tradizioni locali e i giochi di una volta. Pavia Italia, buonasera e ben ritrovati. Slitta ancora in regione la discussione sull'impianto di pirolisi di retorbido dopo la richiesta del Parlamento europeo, che chiedeva altro tempo per poter leggere più a fondo le carte. La conferenza dei servizi è stata rinviata, data da destinarsi e ora le associazioni del territorio possono sperare, anche perché all'interno proprio del progetto ci sarebbe un errore. I conti sono sbagliati, l'area exvaldata si trova a 40 metri di altitudine in meno rispetto a quanto scritto nel progetto dalla ditta proponente. 140 invece di 180 metri sul livello del mare e questo sarebbe sufficiente a invalidare il progetto del discusso impianto di pirolisi a retorbido. In più, in questo modo anche le simulazioni sull'inquinante sarebbero falsate. Questo comporta che tutti gli altri dati relativi al progetto sono sbagliati, sia per quanto riguarda i camini e soprattutto per quanto riguarda le emissioni. E' questa una delle moltissime osservazioni presentate giovedì dai comuni del circondario nel corso della conferenza dei servizi tenutasi in regione a Milano. Osservazioni piuttosto pesanti perché rischiano di costringere l'azienda a ripresentare un progetto ex novo e a quel punto la nuova norma che esclude gli impianti di trattamento rifiuti nei corridoi ecologici come quella dello Staffora chiuderebbe definitivamente la porta al progetto. Noi abbiamo fatto mettere a verbale che la ditta non può presentare delle modifiche su questo ma deve ripresentare il progetto se vuole fare delle modifiche su questa altezza. Per cui ripresentando il progetto questo cade automaticamente perché allora entra in vigore il corridoio ecologico. Se la norma cosiddetta salva Staffora fosse stata retroattiva avrebbe già chiuso ogni discussione ma il fatto non ha colto troppo di sorpresa agli addetti ai lavori perché la norma è stata emanata dopo molti mesi rispetto alla presentazione del progetto e l'azienda avrebbe potuto far ricorso e probabilmente vincere la sua battaglia. Va bene non c'è stato il no all'iter purtroppo neanche per quanto riguarda questo corridoio ecologico perché questo criterio in questa fase dell'iter non è escludente. Verrà per gli impianti futuri però sicuramente verrà tenuto conto nell'iter poi nella procedura finale verrà tenuta conto questa delibera regionale. Ma a far propendere la regione per un rinvio adatta da destinarsi dell'iter si è aggiunta anche la lettera arrivata da Bruxelles nella serata di mercoledì. Dopo la spedizione dei sindaci in Belgio la commissione petizioni del Parlamento europeo ha scritto a Milano chiedendo di sospendere tutto in attesa di raccogliere altre informazioni sul caso Pirolisi unico in tutto il vecchio continente. I tecnici di regione Lombardia nelle prossime settimane dovranno quindi mettersi in contatto con il Parlamento europeo per capire il da farsi. In sostanza chi dovrà spedire i progetti a Bruxelles, la regione o la ditta proponente. Diciamo che siamo ottimisti dopo questa giornata. Apriamo ora l'ampia pagina di politica del nostro telegiornale. Ci spostiamo a Pavia dove il caso della mail che attaccava la giunta De Paoli si fa sempre più intricato. L'ex capogruppo Brendo Lisi a cui venivano attribuiti gli attacchi parla di una mail falsa partita da un indirizzo non in suo possesso. Ma adesso c'è un altro passaggio che rende ancora più intricato il mistero. Sentiamo Mario Fortunato. Dichiarazioni false frutto di un meschino tentativo di screditarmi all'interno del Partito Democratico. Francesco Brendo Lise smentisce categoricamente la mail di Dura Condanna dell'attuale amministrazione e dei vertici del partito, diventata pubblica nelle scorse ore, ma allo stesso tempo alimenta il giallo. È singolare come vengono quasi testualmente riportate parole a me falsamente attribuite, scrive, frutto di un'altrettanta falsa mail di cui sono venuto in possesso, inviata da un fantomatico indirizzo di posta elettronica non in mia disponibilità. L'esistenza della mail è dunque confermata, ma chi l'ha scritta, spacciandosi per l'ex capogruppo Brendo Lise, per quale motivo e come mai sta girando in controllata all'interno e non solo del Partito Democratico? Qualche certo, almeno per il momento, sono i fatti. All'indomani della riunione del PD, che ha eletto Michele Lissia, nuovo capogruppo, e Cristina Abruzzo, sua vice, la comunicazione diventa argomento di dibattito in una ristretta mailing list, composta da una dozzina di persone, chiamata per l'occasione Recuperiamo la BC della politica. Tra i partecipanti, alcuni amministratori, presenti a passati, e altri rappresentanti, più o meno conosciuti, dell'ambiente democratico pavese. Un normale botta e risposta sulle problematiche e sulle prospettive future del partito, in cui spicca il commento attribuito a Francesco Brendo Lise, ma che lui stesso ha in quest'ora smentito senza esitazioni. Uno scherzo? La volontà di mettere in cattiva luce l'ex capogruppo? Ogni ipotesi potrebbe risultare verosimile, ma dovrà tenere conto di un piccolo ma significativo dettaglio. L'indirizzo mail col quale Brendo Lise è stato inserito nella mailing list è lo stesso che si può trovare tra le informazioni del suo profilo Facebook. Un vero giallo nel giallo, che potrà essere risolto solo da un intervento della polizia postale, o da alcune delle dieci persone che hanno risposto alla mail riconducibile a Brendo Lise, condividendo la sua analisi severa sull'operato dell'amministrazione De Paoli. E nel frattempo a Pavia arrivano attacchi veri alla giunta da parte del Movimento 5 Stelle, e in particolare del consigliere Giuseppe Polizzi. Chiediamo al sindaco di rispondere alla domanda posta dall'ANAC perché ha venduto LGH senza una gara pubblica. L'autorità nazionale anticorruzione ha aperto infatti un'istruttoria per verificare la legittimità dell'acquisizione del 51% di LGH da parte di A2A senza appunto la gara pubblica. Nella lettera del dirigente ANAC Giuseppe Failla diretta ai soci di LGH si domanda di chiarire le motivazioni e i riferimenti normativi in base ai quali l'individuazione dell'operatore economico che acquisterà il pacchetto di maggioranza della società senza il previo esperimento di un confronto concorrenziale. Del tema ovviamente se ne discuterà nel prossimo Consiglio Comunale. Parliamo d'altro è stato sfiduciato dagli stessi consiglieri di amministrazione il presidente di ASM ISA Vigevano Paolo Iozzi un atto che di fatto apre la crisi all'interno della società che si occupa dell'igiene urbana in città e in altri comuni della Lomellina. Sentiamo. Una lettera in cui si sfiducia il presidente di ASM ISA Paolo Iozzi a consegnarla sono stati due consiglieri di amministrazione Giulio Onori e Claudia Cova Sarà ora il sindaco a dover decidere il destino dei vertici del settore di ASM Vigevano e Lomellina che si occupa della raccolta dei rifiuti. Le tensioni all'interno della dirigenza andavano avanti ormai da qualche tempo i consiglieri di amministrazione si lamentavano di non venire informati delle attività dell'azienda e di conoscere le decisioni prese dal presidente soltanto una volta che queste venivano annunciate alla stampa. Non c'è però soltanto un discorso di mancato coinvolgimento ma anche di merito. Ai consiglieri infatti non sarebbero andati giù alcuni incarichi di consulenza affidati a esterni e le modalità di gestione dell'ampliamento della raccolta differenziata porta a porta a Vigevano. L'ultima goccia sarebbe stata rappresentata dalla decisione di accelerare il processo. I tempi, secondo gli autori della lettera, non sarebbero stati maturi. In questo periodo sono cominciate le ferie del personale e con un organico già in difficoltà non si sarebbero riuscite a trovare le adeguate turnazioni per fornire copertura alla zona ovest, coinvolta proprio da questa settimana nel porta a porta. Oltre 5.000 famiglie in più da servire e il sistema sarebbe andato in tilt. Al di là delle motivazioni alla base della sfiducia, il problema che si pone è anche politico. In presidente Ionzi è espressione di Agorà, la componente di Forza Italia, che aveva appoggiato fin dall'inizio la ricandidatura del sindaco Sala alle ultime elezioni. I due componenti del CDA che hanno deciso di scaricare il presidente appartengono uno alla Lega Nord, Onori, e l'altro alla lista civica alla strada per Milano, Cova. Occorrerà trovare una sintesi fra le diverse posizioni e il tempo non è molto. Martedì, infatti, è in calendario la presentazione del bilancio di ASM, ISA e comuni soci e i consiglieri dissidenti non hanno intenzione di presentarsi. L'approvazione sarebbe però necessaria per poter arrivare a chiudere il bilancio dell'azienda madre, ASM Holding. Ci spostiamo a Voghera, bilancio positivo per ASM, che avrebbe accumulato un utile di oltre un milione e mezzo di euro nel solo 2015. Ora l'ex sindaco Barbieri risponde alle critiche sollevate nei giorni scorsi proprio per le scelte strategiche dell'azienda. Armando Bidone. I numeri esatti del bilancio verranno resi notti solo lunedì in conferenza stampa ma secondo Carlo Barbieri i risultati raggiunti da ASM e Voghera nel 2015 sarebbero molto positivi. Gli utili della municipalizzata monterebbero a circa un milione e mezzo di euro. Risponde così il sindaco sospeso della città alle polemiche dei giorni scorsi sulle scelte da alcuni ritenute sbagliate prese da ASM negli anni scorsi come quella dell'acquisizione di ASM Tortona. Un ASM che si è allargata dal punto di vista territoriale, credo che questo sia un grande pregio. Quando le altre ASM vengono vendute, ASM Voghera si allarga e fa investimenti. E quindi questo credo che denoti una serietà di gestione aziendale ma sicuramente una grande responsabilità politica che ha dato indirizzi corretti e senza mai interferire più di tanto in quello che è la gestione di quella che è una società, di quella che è una SPA e tale deve essere trattata anche se di proprietà di un ente pubblico. Tutto questo fatto insieme agli altri comuni soci che sono più di 30 con i quali c'è sempre stata una forte sinergia e una forte condivisione sia sui percorsi sia sul piano industriale della società. Credo che un milione e mezzo di utile sia un utile veramente significativo e importante. Parte di quest'utile credo che verrà destinato alle casse del comune ma mi auguro che anche una grossa parte di questo utile, come noi avremmo voluto fare, possa rimanere nelle casse di ASM per effettuare nuovi investimenti e per far crescere l'azienda sia dal punto di vista del fatturato sia per quanto riguarda l'occupazione. Passiamo alla cronaca. Violento scontro tra un camion e un'auto lungo la statale 211 tra Lomello e San Giorgio Lomellina. Momenti di paura per la signora, la guida dell'auto, una pensionata per cui si temeva il peggio ma la donna fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sentiamo. Un incidente dalla dinamica davvero spaventosa, quello avvenuto poco dopo le 16 all'incrocio all'uscita di Lomello dove la ex statale 211 interseca la provinciale 193 bis per Ferrera. Lì, poco dopo il ponte sull'Agonia, una Toyota Ego con a bordo una pensionata di 83 anni si è scontrata in maniera violenta con un mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, sembrerebbe che la signora, che proveniva da Ferrera, abbia, per cause ancora da accertare, saltato l'incrocio tirando dritto senza rispettare lo stop. Proprio in quel momento da Lomello stava arrivando il camion, il cui autista non ha potuto evitare l'impatto. Lo schianto ha interessato il lato guida dell'utilitaria e immediatamente c'è stata forte apprensione per le condizioni della donna. Su posto sono intervenuti polizia stradale, carabinieri e vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto liberare la pensionata ferita dalle lamiere della sua vettura. Il 118 ha fatto convergere a Lomello un'automedica, un'ambulanza della Croce Rossa di Mede, una della Croce Verde di Pavia e anche l'elisoccorso da Milano. Fortunatamente le condizioni della donna si sono rivelate meno gravi del previsto. Il primo referto medico parlerebbe della rottura di un braccio. La vittima è stata comunque portata al Policlinico San Matteo di Pavia. L'incrocio è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso con il traffico, che è tornato a circolare soltanto un paio d'ore dopo lo schianto. La Polizia di Stato ha arrestato anche l'ultimo ricercato della banda di ladri acrobati, che nei mesi scorsi si sarebbe resa responsabile di almeno una ventina di colpi tra le province di Pavia, Milano e Varese. A finire in manette un 33enne di origine romena con una passione per le biciclette. Aveva rubato una bicicletta da 3.000 euro, episodio pavese di una serie di furti commessi in varie zone della Lombardia. Un 33enne di origini rumene è stato arrestato a Milano dagli uomini del commissarianto di Quarto Giaro. Faceva parte di una banda di ladri acrobati specializzati in furti in appartamento, abilissima a penetrare dai balconi e a scassinare serrature. A Pavia, come detto, era stata rubata una costosa bicicletta, a cui corrispondeva anche un certo valore affettivo, in quanto costituiva il regalo per un anniversario di matrimonio. I poliziotti pavesi, a seguito della denuncia della coppia proprietaria, avevano riconosciuto la due ruote in una foto di refurtiva recuperata che era stata fornita dalla questura di Milano. La bici è stata così prontamente restituita poco dopo l'arresto di gran parte della banda. Mancava soltanto il 33enne, finito in manette, dopo che gli agenti avevano individuato la sua abitazione. Quando la polizia ha bussato la porta di casa sua, ha aperto la moglie negando la presenza del compagno. In realtà questi erano nascosti in un armadio, rifugio scoperto con relativa facilità dagli agenti. Parliamo d'altro. Il centrodestra presenta un altro comitato per il NO al referendum di ottobre che coinvolgerà sindaci, amministratori, ma anche semplici cittadini. A presentarlo è stato il senatore della Lega Nord, Gianmarco Centinaio. Finalmente anche il centrodestra decide di entrare in campo con il comitato del NO. Insieme agli amici di Forza Italia, insieme a Fratelli d'Italia, Identità Oltre Po e Pavia Città Sicura, abbiamo deciso di far partire questi comitati. Un comitato che sarà su tutto il territorio della provincia, un comitato che coinvolgerà sindaci, amministratori, cittadini, professori universitari, tutti coloro che vogliono dire di no a una riforma che fa acqua da tutte le parti, una riforma che tutti i maggiori costituzionalisti stanno dicendo che non risolverà i problemi del Paese, non farà risparmiare i cittadini italiani, ma soprattutto creerà confusione, una riforma costituzionale che toglierà poteri alle regioni. Insomma, non bene beneficerà nessuno, forse il signor Renzi si riuscirà a far passare questo referendum. Il nostro obiettivo è quello di far vincere il NO in modo serio, in modo deciso, anche perché, diciamolo onestamente, Renzi ha fatto l'errore della sua vita, ha legato la sua permanenza al governo e la sua permanenza nella vita politica a questo referendum. E fidatevi, il fatto di far andare a casa il Presidente del Consiglio, grazie al voto degli italiani, sarà la cosa più bella del mondo. E quindi, con questo comitato, chiediamo a tutti i cittadini pavesi di aderire e di darci una mano. Sono iniziati in queste ore i lavori programmati dalla provincia di Pavia sul raccordo autostradale di Bereguardo, possibili disagi per la chiusura programmata di diversi svincoli dal 4 all'11 luglio in direzione A7 per l'allargamento della carreggiata. La provincia, per evitare disagi, ha individuato percorsi alternativi che saranno segnalati sul tracciato ed ha anche elaborato un piano di viabilità d'emergenza. Saranno 5, infatti, gli svincoli chiusi in direzione nord ed uno in direzione sud nei prossimi giorni e sarà inaccessibile anche quello di Pavia e di Via Riviera. In Piazza Italia si spera anche nel bel tempo, perché in caso di meteo avverso i lavori potrebbero subire ritardi. Cambiamo decisamente argomento. Col diretti ha lanciato il progetto Carnaroli in purezza per tutelare il riso d'eccellenza del nostro territorio. L'annuncio durante l'assemblea provinciale del 2016 dedicata al Made in Italy, a cui ha partecipato anche il presidente regionale Prandini. Sentiamo le interviste. Sì, oggi, infatti, presentiamo un progetto molto importante che è il progetto Carnaroli in purezza che Col diretti ha ideato e poi ha sottoposto alla Camera di Commercio. La Camera di Commercio l'ha fatta propria e ha dato l'apertura, però, a tutto il comparto risicolo. Perché, logicamente, il riso è la nostra ricchezza, è una ricchezza del territorio, per cui era giusto che a questo progetto potessero fruire tutto il mondo agricolo pavese. Quanto è importante continuare a sostenere il Made in Italy, sostenere i piccoli produttori anche della nostra provincia? Assolutamente, è molto importante perché il Made in Italy è la nostra salvaguardia. È la salvaguardia delle nostre tipicità, è la salvaguardia del consumatore finale e soprattutto diventa anche la salvaguardia delle risorse destinate alle nostre aziende. La distintività dell'agricoltura italiana diventa sempre più determinante nel cercare di creare le condizioni per dar reddito economico alle nostre imprese agricole. È fuori dubbio che solo sugli elementi distintivi, quindi dimostrando quella che è la qualità dei nostri prodotti agroalimentari, che sarà possibile fare questo, ma soprattutto iniziando a disegnare traiettorie di futuro anche nel medio-lungo periodo, quindi con progetti che devono essere innovativi, ma dove si accompagnano le aziende agricole e non pensare solo al problema del giorno dopo che sicuramente va affrontato, ma ripeto, ritornando anche ad avere una prospettiva di medio-lungo periodo per quanto riguarda il settore agricolo, per quanto riguarda quei settori che sono ovviamente la spina dorsale della nostra agricoltura, che va dal settore risicolo, ma per arrivare al comparto zootecnico, per il settore vitivinicolo, che ovviamente sono il fiore e l'eccellenza del nostro agroalimentare. È stata inaugurata la broletto di Pavia, la mostra Urbex, un viaggio fotografico nelle aree di smesse. Il progetto è stato ideato e realizzato dalla fotografa pavese Marcella Milani. La mostra riporta alla vita 16 aree di smesse del territorio pavese, tra cui Necchi, Nisnia, Neca e l'Idroscalo, raccontate attraverso 150 immagini inedite in bianco e nero, un lavoro durato un anno e mezzo. L'esposizione che rimane aperta al pubblico fino al 17 luglio 2016, organizzata dal settore cultura del Comune di Pavia, con il supporto della Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia e dell'Associazione Amici del Carmine Onlus, con il patrocinio della Provincia di Pavia. Noi ovviamente vi presenteremo tutte le immagini della mostra nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Andiamo a Belgioioso adesso per mostrarvi invece le immagini della quinta edizione del Rousseau in Festa, manifestazione nata dall'idea di alcuni amici che, amanti delle antiche tradizioni locali, hanno deciso di ricordare un passato vicino e i protagonisti dell'edizione di quest'anno erano i giocattoli. Vediamo. Siamo alla quinta edizione del Rousseau in Festa. Quest'anno il tema è sui giochi, gli antichi giochi e gli antichi giocattoli. In ogni cortile che prendono il nome degli antichi artigiani che vi abitavano, tipo il vedrielle, il bagate, sono rappresentati tutti i vecchi giochi e di giocattoli, come poi vedrete. Sono nata in San Rousseau, abito qui, mi sono sposata e anche mia figlia abita in questa splendida via di Belgioioso. Noi siamo un gruppo di persone che cinque anni fa, grazie a un'idea di Walter Paravella, ha deciso di organizzare questa festa a scopo benefico. Noi teniamo a lasciare la beneficenza che facciamo in paese, ad associazioni, all'oratorio, piuttosto che alla parrocchia. Quest'anno abbiamo deciso, come ha detto Rosella, di incentrare la nostra festa sui giochi, i vecchi giochi e i giocattoli. Abbiamo pensato quindi, per ogni cortile, perché il nostro filone è appunto questo, ricordare le particolarità di ogni cortile, abbiamo deciso di realizzare dei pupazzi con le fotografie dei bambini che ci abitavano e che oggi sono adulti. Ma soprattutto dobbiamo dire grazie a tutti coloro che ogni anno contribuiscono per organizzare questo importante evento, un evento atteso. Sono persone che lavorano per un anno intero e dimostrano come la passione, la volontà, la dedizione, la forza di volontà possono in qualche modo creare qualcosa di molto, molto importante. Il sindaco a che cosa giocava quando era bimba? Ma non giocavo tanto con le bambole, in realtà giocavo più con le macchinine, un sindaco un po' sui generis da bimba. Una bella festa, sempre molto partecipata questa di Belgioioso. Noi ci fermiamo un momento, adesso c'è la pubblicità, ma restate con noi perché torniamo tra poco. Eccoci tornati in studio, non ci sono altre novità, quindi il nostro telegiornale si chiude qui. Io vi lascio come sempre al meteo e all'agenda del tempo libero. Grazie per averci seguito, una buona serata.